Ragazzi io non ce posso credere quello che sta succedendo è un incubo Sta succedendo di tutto Un incubo per i tifosi della Roma Perché così addirittura manco in zona preliminari di Europa League Siamo e stasera con la partita almeno si Ma dobbiamo giocare con la Juve Ciao E ben ritrovati ragazzi la vedo male Prima di continuare Non lo faccio neanche Non fai neanche il rumore Scaricate OneFootball dal link in descrizione La migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio Gratuita sia per iOS e Android Ripeto trovate il link in descrizione Vi dico la verità Troppo demoralizzato io sinceramente Io vi dico la verità io non stavo gufando la partita La stavo guardando da spettatore non pagante Anzi no da spettatore pagante Anzi no manco perché da soldi questo mese Abbiamo fatto la registrazione gratuita Ecco Quindi spettatore non pagante E va bene Ma che cosa è successo Che passa Allora Non ti sbaglia in calcio di rigore Sì Ve lo giuro non l'ho gufato Che cosa succede poi Che addirittura il sassuolo passa in vantaggio Passa in vantaggio Ma fa tutto pura bia praticamente Allora Perché Allora prima si fa morire Poi segna Il gol del vantaggio Se fa cacciare Se fa cacciare Perfetto E credo che abbia un po' Come si dice Influenzato la partita Compromesso la partita Ah influenzato la partita Perché io vorrei rivedere questa partita Con un giocatore in più Per il sassuolo Per tutto il secondo tempo Poi per carità Poteva anche vincere il Torino No ma secondo me avrebbe comunque vinto il Torino Non lo so Non ne sono così sicuro Comunque fatto sta che Il Torino nel secondo tempo inizia a spingere Tant'è che Tant'è che Pelotti si fa perdonare E non solo Perché continua ancora a spingere Ma nel momento migliore Nel momento di assedio del Torino Che cosa succede? Eh niente Che praticamente Liro la ributta dentro Con un colpo di tacco Colpo di tacco Anche spettacolare Anche abbastanza spettacolare Su cui sembra esserci anche Un tocco dei Siriku De Siriku Da quel momento Io ho commesso l'errore Di cominciare a sperare Nella sconfitta del Torino Male Nel momento in cui Ho cominciato a sperare Questo Che cazzo succede E due secondi dopo Perché in due minuti Praticamente Torino ne fa due De cui uno pazzesco 81-82 Zazza prima E Belotti poi Con una rovesciata Cioè Micidiale Pazzesca ragazzi Conclusione perfetta Io sono rimasto a libido Cioè da applausi Una rovesciata Veramente pazzesca Stato veramente un bel gol Vuoi riassumere la classifica Perché la partita Manca un minuto Praticamente è finita Io proprio a questo Volevo arrivare Stavo in trepidante Attesa della classifica Che purtroppo Al momento recita Partiamo dal terzo posto Dove l'Atalanta È a 65 Con una gara in più Inter al quarto posto Con 63 punti Domani gioca col Chievo Esatto Poi Milan Al quinto posto Con 63 punti Che ha già giocato E vinto ieri E vinto ieri contro la Fiorentina Al sesto posto Il Torino Che stavamo proprio dicendo Adesso A 60 punti Roma Con una partita in meno Al settimo E dico settimo posto A 59 Ma dobbiamo giocare Con la Juve Lo ripeto E Lazio E Lazio Ottava 58 Che ha già giocato E vinto ieri contro Cagliari Ve faccio semplicemente Un dato statistico Vince l'Inter E perde la Roma Siamo matematicamente Fuori dalla Champions League Sbaglio? No non sbagli Perché l'Inter Andrebbe a quota Anzi Mettiamo l'Atalanta Al quarto posto A 65 E la Roma A 59 Nel frattempo La partita è finita E In matematico Mancano 6 punti poi Mancano 2 partite Forse per differenzarli Allora Perché la Roma Starebbe a 59 Dovrebbe vincere Tutte e due le rimaste E l'Atalanta Dovrebbe perderle entrambe Praticamente Vabbè Parliamo di utopia ragazzi Fateci sapere Che cazzo Le pensate nei commenti Se la Roma dovesse vince La Roma Fuori dalla Champions League Il peggior incubo De questa settimana Si sta realizzando Lo sai l'unica cosa Che non mi dispiace E che sto beccando Tutta la schedina 4 partite 4 partite ho beccato Quella è l'unica cosa Che non mi dispiace Ma tanto mi salterà Sempre come tutte le domeniche Per la partita di merda Sempre più una Detto questo Fateci sapere Che cosa ne pensate Nei commenti Vi ricordiamo Di scaricare OneFootball Dal link in descrizione Dal link in descrizione ragazzi Miglior applicazione preferita Per tutto il mondo del calcio Detto questo Vediamo quello che succederà Nelle partite del pomeriggio Io mi permetto De di che Vaffanculo Avendo male Ieri ho fatto il titolo Please Roma Come tu Vaffanculo Ho scritto E' giusto Ciao